Io personalmente, da un punto di vista etico, non lo farei. Sai cosa farei? Farei in modo provocatorio quello che ha scritto Coltorti, che è l'ex direttore del centro-sud di Mediubranca. Io farei fallire Roma da un punto di vista tecnico. Cosa succede? Benissimo, salvo le opere d'arte, viene pignolato tutto. Addirittura, le spiego anche, c'è una forma, bisognerebbe installare una forma di responsabilità diretta. Non solo nei confronti, azioni di responsabilità diretta, non solo nei confronti delle banche che hanno favorito tutto questo, ma anche degli amministratori. Dopo di questo, rogo purificatore, tre commissari, si fa rinascere in Roma. Cosa succede? Certo, certo. Certo, certo. Certo, c'è una felicità. Lo shat down, lo shat down. Tassativo, ci vediamo tra voi.